GINGO BELLO A TUTTI RAGAZZI DELLO SHOCK TINGO YO SHOCK E KEVIN SHOCK BELLO RAGAZZI E BENTONATI SUL NOSTRO CANALE E Oggi siamo qui con un vlog, un video dopo poco dall'altro video visto che prima c'era uno dei gaschi di settimane Ma soprattutto Buon Natale Sì perché oggi è il 25 in verità oggi è il 24 però stiamo registrando il video però voi lo vedete il 25 Perché con la partner abbiamo privilegi che voi comuni mortali fottuti idioti non avete In verità l'avete tutti perché ormai la partner si prende a meno 1 iscritti quindi non è che cambi tanto E niente ragazzi Comunque ragazzi buon Natale a voi e le vostre famiglie E cogliamo appunto l'occasione per ringraziare tutte le persone che ci seguono e che continuano comunque a supportarci nonostante le nostre essenze Nonostante che tutti i cambiamenti di youtube con il coinvolgimento la figa della propria madre e non la vostra di youtube E quelle cose lì continuano a seguirci perché sappiamo che ormai diciamo il pubblico viene a diminuire Mi piace sono molti di meno che quelli che facevano l'anno scorso però già abbiamo che siamo meno iscritti Quindi magari pian piano col tempo Sì magari ritorneremo perché appunto il coinvolgimento su youtube adesso sembra essere praticamente tutto perché bene o male io vedo che sono sempre le stesse persone che commentano Appunto perché il coinvolgimento gli fa vedere il video da noi caricato appunto in prima pagina Solo quelle persone youtube sta diventando una merda sempre di una merda perché quando abbiamo iniziato era meglio Youtube tende sempre a diventare più un social network adesso non vedete che ti fa cambiare nome google plus Sta cercando di superare facebook a mio parere di crearsi un suo network a parte appunto Sono a fare collaborazione con facebook è quello che diciamo che è un po' rovina i piccoli youtuber E i grandi invece li agevola Cioè tende sempre a diminuire i piccoli youtuber appunto i youtuber emergenti e a aumentare i youtuber che già sono Sono un cazzo di dice Quelli famosi Sì quelli famosi ecco appunto Però quello che volevamo dire è che Uno non può neanche ammalarsi e avere la febbre O andare in ferie fare un video Che magari sta via un mese, due settimane e dopo Che perde il coinvolgimento degli iscritti Magari anche uno che ha 10.000 iscritti Dopo viene a casa e il coinvolgimento è sceso moltissimo Quindi non ha più quello che voleva Noi comunque abbiamo 7.000 iscritti Nel video non facciamo nemmeno 100 mi piace Possibile che su 7.000 Nemmeno a 100 diciamo Facciamo finta di 100 Comunque potrebbe essere di più Nemmeno a 100 persone esce il video nelle feed O meno di 100 persone non piace il video Perché altrimenti mi vado a chiedere cosa cazzo vi siete iscritti a fare Se poi non guardate il video Capito? In pratica quello è quello che ci viene più a mente Noi continuiamo perché vogliamo provare a vedere se riusciamo Comunque abbiamo intenzione di chiedere anche a certa gente Di cui non facciamo il nome Che comunque conosciamo È abbastanza più famoso di noi Che avevamo iniziato insieme Dopo noi abbiamo fatto la pausa Siamo fermati Magari ora saremmo a livelli più alti Se non ci eravamo mai fermati Però la libertà di una persona Di uno che è un canale Consiste anche nel quello Fermarci e poi ritornare Sì la vita appunto non deve ruotare solamente attorno a YouTube In pratica YouTube adesso devi passare tutto il giorno Un giorno sì un giorno no Tutti i giorni su YouTube Rispondere a questo Fare questo Fare quest'altro Se vuoi che il tuo canale venga sempre coinvolto Altrimenti no Altrimenti se perdi Se perdi un giorno di fare un video Perdi già potenza nel canale Così possiamo chiamarla ragazzi Ed è questo che è un po' Una merda diciamo Una merda Sì è una merda Hope to remove Google Plus Ecco ecco Bisogna rimuovere Google Plus Comunque ragazzi Questo non è comunque importante Perché torneremo Torneremo attivi Nel 2014 Anche faremo Molti video Anche che non sono Call of Duty Sì infatti Nel 2014 abbiamo In Mint Abbiamo come progetti Effetti collaterali Che hanno tutti i ghost È sicuro Quello è sicuro Dobbiamo trovare il tempo di farlo Di trovare qualcosa che faccia ridere Perché ormai sapete tutti Come sono gli effetti collaterali Quindi cerchiamo di stupirvi Questa volta di cambiare un pochettino Non è come il primo Effetti collaterali Il primo è stato qualcosa di epico Perché nessuno se lo aspettava Nessuno si aspettava tutte quelle cose Quindi è già del secondo Dopo il terzo è stato epico Il quarto anche Però non è stato l'impatto Che avuto il primo Non l'ha avuto nessuno Secondo me forse mi piace del primo Non sono tanti Quale il terzo Però Non è la stessa cosa Quindi Comunque tutto sommato Non so Qualcuno se lo sta chiedendo Non so se si vede Ma è cambiata tutta la postazione Qua da Diego Non l'ha ancora fatta vedere La faremo vedere magari O a fine video Magari se potrebbe fare una foto Così No la faremo La faremo in un prossimo video La faremo dopo Magari a fine video Vi farò vedere la postazione nuova È venuta bene È venuta La Playstation 4 Tutto made in Kevin Diego E in Lego La Steph90 Posso aprire Una dita Dopo aver attaccato questa cassa Si è fatto un super impianto Pova Abbiamo fatto un lavoro Molto grande Comunque Come sapete dal video presente Sono passato anche a PC E appunto per questo Vi aspetteranno nuovi video Sì Appunto su PC E quindi ragazzi Tratteremo di nuovi videogiochi Nuovi videogiochi Che non sono solo Glowduty Anche perché Glowduty Ghost Diciamo Era arrivato a livello 22 Su Xbox 360 Io 26 Su Playstation 4 Sono a livello 14 O 16 Non voglio dire una cazzata Però uno di quei livelli Quindi Il gioco fa schifo Dai Ammettete che il gioco fa cagare A me non ci fa cagare Però Tra due o tre giorni Vedrete un nuovo video Che parlerà direttamente Di questa cosa Di Di Glowduty Ghost Su un gioco Che non è Ghost Parleremo di Ghost Su un gioco che non è Ghost Quindi State sintonizzati Ora Vi salutiamo Perché Diciamo non abbiamo più niente da dire Sì Augurare il buon Natale Bisogna fare un buon Natale Di 6 minuti Di 10 minuti Quindi ragazzi Spero che passate un buon Natale Spero Buon Natale ancora Spero che il nostro canale Possa ritornando attivo Spero che se ci supportate Lasciate almeno un mi piace Passate alla pagina di Facebook Se lasciate un iscritto No Se lasciate un mi piace Lascia stare Dopo ne parleremo Comunque niente ragazzi Dallo Shock Team Per oggi è tutto Restate sintonizzati Lasciate un mi piace Cazzo Lasciate un mi piace Perché vogliamo Il nostro regalo di Natale Ecco Il nostro regalo di Natale Quindi niente Magari Ho anche intenzione Di fare una nuova serie Che potrà coinvolgere Di più gli iscritti Dallo Shock Team Tornare nella mischia Tornare nel giro Tornare nel giro Nel giro Nel giro Quindi ragazzi Dallo Shock Team è tutto Lasciate un bel like E bella ragazzi E ricordatevi la pagina Facebook Yahoo Answers Grazie 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 Grazie